Il migliore dei fiori è il ciliegio, il migliore degli uomini è il guerriero. Una cultura, una tradizione, un perfetto equilibrio tra forza, ordine e disciplina. Il misterioso mondo dei samurai oltrepassa i confini del tempo. A Palazzo Reale, Samurai, una mostra Fondazione Mazzotta. A Palazzo Reale. A Palazzo Reale.